Da giugno 2018 ad aprile 2019 tutti gli eventi che vanno in scena a Fano racchiusi in una comoda brochure tascabile 10x15 da portare con sé o tenere comodamente a portata di mano per avere sempre sott'occhio tutte le occasioni di svago, cultura, sport, mostre e manifestazioni in cui investire il proprio tempo libero. Tutte le manifestazioni trovano posto in questo bignami a disposizione sia dei villeggianti che dei cittadini fanesi che tutto a mente certo non possono avere e strumento essenziale anche per gli operatori dell'accoglienza che vogliono dare un panorama completo a quanti occupano le loro strutture e vogliono un'alternativa a Lettino Maresole. Molti gli eventi presenti nella brochure sono stati già presentati al pubblico ma molti ancora sono in divenire. La guida, tiratura iniziale 5.000 copie, ha proprio questo scopo, dare una prospettiva ed una certezza nelle date per poter fare un cerchietto rosso nel calendario come gli appuntamenti legati all'autunno o al Natale prossimo fino ad arrivare al Carnevale 2019. Ragion per cui l'uscita di questo supporto cartaceo non è avvenuta con grande tempestività. Per certo andare in stampa bisogna avere le certezze di date e di manifestazioni. Tutte le tradizioni che Fano ha conservato in decenni di storia vengono confermate e potenziate. Una città che però ha anche tantissime altre iniziative perché nel manualetto che consegneremo oggi si trovano anche tutte le iniziative di associazioni che abbiano voluto far pervenire a loro i nostri temi e quindi anche sagre, feste per tutti i palati come si dice. Noi siamo una città turistica anche diffusa nel territorio quindi sono opportunità anche in periferia perché tutte le zone della città devono vivere e questo prontuarietto che distribuiamo oggi la raccoglie tutte. Volendo scegliere quella che però incarna maggiormente lo spirito fanese non si può prescindere dalla festa del mare che ogni anno acquista caratura e potenziale per essere sempre di più la bandiera di Fano, città del mare. Ma di fatto se si pensa per esempio alla festa del mare che è quella che è la cifra stilistica della località di mare, da qualche anno unisce sia l'enogastronomia che lo spettacolo che la cultura della tradizione. Quindi con la ripopolizzazione di mostre, di filmati e io ringrazio le associazioni che la animano perché poi tutto questo sarà come vedremo tra un po' ma non voglio svelare niente, sintetizzato in un prodotto finale che questa amministrazione vuole lasciare alla città di documentazione della cultura nostra, del mare sostanzialmente.